L'Europa promuove l'Emilia-Romagna che ancora una volta rispetta e supera gli obiettivi di spesa fissati dalla UE, confermando ottime performance nell'impiego delle risorse strutturali. 2,2 miliardi di euro di fondi europei sono già stati impegnati per sociale, formazione e lavoro, imprese e agricoltura e le percentuali di utilizzo delle risorse sfiorano il 99%. A certificarlo è la Commissione europea, i cui emissari in questi ultimi giorni sono stati presenti in regione per le riunioni dei comitati di sorveglianza chiamati a verificare lo stato di attuazione dei programmi. Gli inviati di Bruxelles hanno certificato l'impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale di 480 milioni di euro, pari al 99,6% della dotazione disponibile, e quello per il Fondo sociale europeo che supera i 662 milioni, che corrisponde all'84,3% delle risorse. Sul fronte del piano di sviluppo rurale è stato certificato l'impegno di 1,1 miliardi, con contributi già concessi per 903 milioni. In Emilia Romagna così si garantiscono competitività e coesione territoriale, afferma il presidente della regione Stefano Bonacini, che pone l'accento sulla capacità di fare rete e ciò che stiamo portando nel dibattito europeo sul futuro della politica di coesione con il no a ipotesi di taglio dei fondi europei a cui stiamo contribuendo da protagonisti, conclude Bonacini.